Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi rimasiamo insieme l'euforbia trigona. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti tutti i prossimi video. Metti like se ti è piaciuto. Grazie per la visione. Al prossimo video. Ciao ciao. Ciao a tutti.